Utile netto, mai così alto in 150 anni di storia. Numeri record per la Banca Popolare di Sondrio nel 2023. I risultati preliminari consolidati economici e patrimoniali approvati dal Consiglio di Amministrazione presieduto da Francesco Venosta parlano più delle parole. 461,2 milioni di euro di utile netto in aumento dell'83,5% rispetto all'anno precedente. Un dato mai così consistente in passato che ha spinto il CDA a proporre il raddoppio del dividendo per azione per un valore unitario di 0,56 euro. Numeri che testimoniano la capacità del gruppo di adattarsi con successo ai mutevoli contesti di riferimento azionando opportunamente le leve operative identificate a suo tempo con l'elaborazione del piano industriale Next Step. Il risultato, come sottolinea Mario Alberto Pedranzini, consigliere delegato e direttore generale dell'Istituto di Piazza Garibaldi riflette il forte balzo dell'attività bancaria e caratteristica, i cui proventi si attestano a 1340 euro milioni di euro, più 26,2% rispetto al 31 dicembre 2022, con un apporto significativo anche delle attività finanziarie per 123 milioni. Tutte con il segno più, la raccolta diretta da clientela, quella indiretta e la raccolta assicurativa. È positivo infine il contributo al risultato netto di gruppo da parte delle società controllate e collegate, in particolare BPS Swiss e Factory.